Una domanda secca, perché non c'è stata la terza lista? Ma io non mi sento assolutamente responsabile di quello che è successo, ho cercato di lavorare fino alla fine per trovare una sintesi e costruire una lista alternativa, una lista che naturalmente fondava la sua essenza su un progetto, su un programma. Devo dire con rammarico che in tre mesi tutti coloro che si sono proposti di tutto parlavano, tranne che del programma, la vicenda lo dava solo ed esclusivamente attorno alla figura del sindaco. Io già da gennaio dissi che ero disponibile a qualsiasi tipo di funzione nell'ambito della costruzione di questo progetto, e chiarendo che avrei fatto non uno ma dieci passi indietro di fronte a qualche personalità che ci potesse rappresentare tutti quanti. Fu fatto il nome dell'amico Pasquale D'Agostino in quota Partito Democratico. Io dissi che per quanto riguardava la mia persona non c'era assolutamente difficoltà, non solo l'avrei sostenuto, ma mi candidava anche come candidato consigliere comunale. La proposta di candidatura di Pasquale D'Agostino non andò a buon fine. In una riunione dove vi era la presenza anche della segretaria del Partito Democratico, dissi testualmente che qualora la candidatura del dottore D'Agostino non avesse avuto seguito, non c'erano per quanto mi riguardava altre opzioni. L'unica opzione che rientrava in gioco era quella della mia persona. Non fu mosso nessun appiglio in questa riunione, nessuno disse guardate che se dovesse fallire la candidatura di D'Agostino, noi come PD faremmo un altro nome. Non mi è stato mai detto, siamo andati avanti tirandola per le lunghe, siamo arrivati a due giorni dalla presentazione della lista e mi pongono come alternativa alla mia candidatura quella dell'amico Razio Perrotto. Mi dispiace che Razio Perrotto sia prestato a questa operazione perché era un'operazione assolutamente di rottura che non poteva assolutamente essere accettata né da me né dagli altri componenti che dovevano poi candidarsi come consiglieri comunali. Voglio far rilevare che insieme ad altri 7-8 ipotetici candidati abbiamo lavorato in maniera molto forte per cercare di costruire una lista che si potesse porre all'attenzione pubblica come una lista vincente. Quindi avevo dalla mia parte 8 candidati su 13, hanno voluto imporre fino all'ultimo giorno la candidatura dell'amico Razio Perrotto sapendo che non poteva spuntarla. Evidentemente qualcuno pensava che tra i due litiganti il terzo coteva, invece le cose non sono andate così. Ho il rammarico, mi dispiace, perché non siamo comunque riusciti a presentare una lista alternativa a questa amministrazione. Però devo dire tutto sommato che avendo avuto modo di conoscere ancora una volta le persone con le quali mi sono accompagnato in questi ultimi tempi e penso che alla fine queste persone se ne possono stare tranquillamente a casa. Tanto un'amministrazione a questo paese comunque sarà assicurata. Io faccio un in bocca al lupo alle due liste e naturalmente mi auguro che chi vincerà questa competizione elettorale possa affrontare quei problemi che io avevo sottoposto all'attenzione pubblica, cioè i problemi di un'attenzione verso le famiglie più disagiate, una riduzione delle tasse e un intervento mirato alle questioni ambientali. Nonché la messa in moto del piano urbanistico comunale, del piano commerciale. Sono questi temi che sicuramente io penso un'amministrazione responsabile dovrà affrontare per il futuro. Per quanto mi riguarda la mia attività politica non è che finisce perché non sono impegnato a livello locale. Io farò campagna elettorale per le regionali, darò il supporto per lo sviluppo del nostro paese in maniera disinteressata a prescindere perché ritengo che questo paese merita uno sviluppo adeguato e quindi la mia persona resta a disposizione di coloro che me lo chiederanno.